ok allora no sempre per il tratturro sul tratturo che un animale dicevamo sempre sul tratturo però siamo entrati in abruzzo no lo dico per la telecamera ok fino a rambo rambo te spicci a casa eh qua dentro eccola quella eh ah non è qua prendo cazzo sto andando io si 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 non ne vediamo io lo so lo so votato al all'errore oh amore mio quanto pesi eh si è infilato, si è infilato a quella casetta che vediamo lì, e poi? poi torna indietro o no? no continuo? che cazzo va? non continua, va là dentro, si vede che c'è la stradina, si vabbè che ci andiamo a fare là? qua torna indietro, ah tu vedi la strada lì, si, c'è una strada però non so se si rimette, eh no, va dentro al bosco, ginevraio style, no 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 eccure questa via del re di Romerlensi oh vai, eccolo, toscano inside oh via non so se se io le fanno sempre vedere no, dove cazzo si andava? va bene uguale on track ok bene basta abbiamo fatto il fai da lui? non cazzo, a me non abbiamo fatto per cazzo l'Aquila Isernia ok eh qui stiamo, qui stiamo qui stiamo, qui stiamo qui stiamo, qui stiamo oh le pausa camera qui stiamo